Questo bambino sono io tanti anni fa. Sai che differenza c'è tra quel bambino e l'uomo che vedi fotografato su questo palco oggi? Quasi 40 anni di errori, di vittorie, di lacrime, di sbagli, insomma tanta esperienza di vita che non è ancora finita. Ho scoperto che i sogni hanno gambe lunghe e tanto fiato. Nonostante l'ansia e la paura di fare il famoso passo più lungo della gamba, tante volte ho preferito rischiare, trovandomi tuttavia anche in posti dove non sarei mai voluto arrivare. Se posso darti un consiglio, frutto di tutti i miei errori, una cosa importante che ho capito sulla mia costante preoccupazione per il futuro. Il fatto che tu non hai paura di una nuova sfida, tu hai paura di una vecchia sconfitta. Questo mi ricorda che la mia non è paura, è preoccupazione, ma che la preoccupazione per il futuro può essere eliminata ragionando sul fatto che alcune cose le ho già fatte, ho già imparato dai miei errori e le probabilità di fallire sono più ridotte rispetto a prima. Ecco perché ha senso credere nelle cose impossibili e questa è motivazione.